Non si può non parlare del comparto grandorsale, in questo caso la nostra Francesca si è posizionata su un seggiolino, anche questo inserito sul nostro X-Rig, sta utilizzando la barra classica da Let Machine, calcolate che comunque fra i nostri accessori potrete trovare la Tresibar piuttosto che la classica maniglia a triangolo eccetera, insomma come più vi piace. Distribuzione del carico attraverso le nostre carrucole, comparto pesi con l'inserimento dei dischi e sempre nella stessa struttura potrei andare a inserire il classico pulley, per cui vado a sganciare un attimino il tutto, vado a inserire il triangolo e mi posso posizionare tranquillamente a terra oppure con l'utilizzo di una panchetta per andare a puntare. Ad attivare il grandorsale in una maniera differente e classica, per cui il nostro multi pulley è veramente molto versatile. Detto questo, all'interno della struttura si potrebbe andare a inserire anche la classica barra da pull up, insomma la puoi giocare veramente come più ti piace. Grazie a tutti!